Oggi è un video un po' diverso dal solito, ho avuto qualche problema tecnico col microfono esterno per cui dopo aver registrato tutto il video mi sono resa conto che l'audio non si sentiva praticamente perché non aveva funzionato il microfono esterno e quindi l'audio era quello del microfono del telefono, quindi adesso sto registrando nuovamente solo la mia voce quindi solo l'audio, il video sarà così, adesso vedrete l'intro con me e questo audio pessimo, bassissimo che si sente veramente poco, dopodiché vedrete immagini, io non ci sarò più sentirete solo la mia voce e appunto le immagini in accompagnamento ma questo è, non avevo tempo di registrare nuovamente tutto il video ma ho optato solo per l'audio per fare prima. Bene, detto questo vi lascio il video. È il 27 dicembre 1991, ci troviamo tra i boschi di Gottrora in Svezia, una striscia di alberi lunga poco più di un centinaio di metri alle punte mozzate, sembra che qualcuno li abbia decapitati. Dove gli alberi finiscono si apre una radura, qui sul terreno ghiacciato e ricoperto di neve giace il relitto di un MD 81 appartenente alla Scandinavian Airlines, la fusoliera è spaccata in tre parti, l'odore pungente del carburante permea l'aria, nonostante nello scenario catastrofico, tutto è immerso nel silenzio. Benvenuti a bordo amici, io sono la Ele e la storia di oggi comincia così. Benvenuti amici, oggi è tornato a trovarci il nostro hostess speciale, Thor. Lui è qui perché vuole ricordare a tutti, diglielo, ricordatevi di mettere like se vi piacciono i nostri video, di iscrivervi al canale, ha detto parole sue che se non lo fate viene a cercarvi uno per uno. Un pitbull così feroce, io farei quello che dice. Noi li abbiamo avvisati. Lo so che non sei un vero pitbull, tu non hai manco il pedigree. Il pitbull della leader mi hanno dato. È il mattino del 27 dicembre 1991. Il volo Scandinavian Airlines 751 si trova all'aeroporto di Stoccolma in Svezia, dove si prepara a partire per un viaggio che lo porterà a Varsavia, in Polonia, con uno scalo intermedio a Copenhagen. Il volo è operato da un McDonnell Douglas MD81. Questo modello di aereo è una versione più grande e più moderna del DC9. Le sue caratteristiche principali sono la coda T e i due motori montati nella zona posteriore della fusoliera, dietro le ali. Questo MD81 è nuovo di Zecca. È in servizio da appena nove mesi. L'aereo è arrivato a Stoccolma la sera precedente, il 26 dicembre, intorno alle 22, proveniente da Zurigo. È quindi rimasto parcheggiato presso l'aeroporto fino al mattino, quando viene preparato per il volo 751. Nel volo da Zurigo, le temperature durante la fase di crociera avevano raggiunto i meno 60 gradi centigradi, quindi era molto molto freddo. La notte a Stoccolma le temperature si erano aggirate intorno agli 0 e meno 1 gradi centigradi, con pioggia, missa, neve. Un clima invernale assolutamente nella norma per Stoccolma. Se c'è carburante molto molto freddo nelle ali è comune che si formi uno strato di brina, ma se su questo strato piove o nevica, si crea uno spesso strato di ghiaccio. Il comandante di questo volo, Stefan Rasmussen, lo sa bene e dopo aver ispezionato l'esterno del suo aereo e raggiunto nel cockpit il suo primo ufficiale, Ulf Cedermark, ordina immediatamente lo sghiacciamento. Lo sghiacciamento consiste nello spruzzare una soluzione di acqua e sostanze antigelo ad alta pressione su tutta la fusoliera dell'aereo e in particolare sulle ali. Questo passaggio serve a eliminare tutto il ghiaccio presente e ad evitarne la formazione. Quindi i tecnici dell'aeroporto di Stoccolma procedono. Tuttavia, poiché il comandante aveva visto che la quantità di ghiaccio sulle ali era importante, una volta finite le operazioni di sghiacciamento, contatta il tecnico responsabile e chiede un'ulteriore conferma visiva che l'aereo sia effettivamente pulito. Il tecnico gli risponde di sì, che l'aereo è perfettamente pulito. Il comandante a questo punto chiede se hanno verificato anche nella parte inferiore delle ali e gli viene risposto che sì, è tutto a posto. L'aeromobile è quindi pronto a partire, con a bordo i suoi 123 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio per un totale di 129 persone. Alle 8.47 l'aereo stacca le ruote da terra. Passano appena 25 secondi quando accade qualcosa di totalmente inaspettato. I piloti sentono una sorta di strano ronzio, un suono sommesso mai sentito prima. A questo seguono molto velocemente una serie di botti, di esplosioni che provengono dai motori e una forte vibrazione avvolge l'intero aereo. L'equipaggio è preso alla sprovvista, nessuno capisce cosa stia accadendo. Nel caos del momento avviene tutto molto in fretta e all'improvviso la cabina si riempie di suoni di allarme e l'aereo vibra in maniera violenta. Il comandante non capisce cosa stia causando quel problema ai motori, tuttavia decide di diminuirne la potenza. Ma questo non risolve il problema, i motori sono ormai compromessi e in pochi secondi dall'inizio dell'emergenza uno dopo l'altro si spengono. A bordo dell'aereo quel giorno, per un caso del tutto fortuito, si trova il comandante Per Holmberg, un pilota della Scandinavian Airlines che si trova sul volo come passeggero. Ora è necessario fare una piccola digressione su Per Holmberg. Anche lui è un pilota di MD81 e anche lui aveva fatto il passaggio dal vecchio DC-9. Durante il training che tutti i piloti avevano seguito per essere istruiti su questo nuovo modello di aeromobile, Holmberg aveva fatto notare una grossa mancanza. Tra le varie checklist del vecchio DC-9 ne esisteva una che indicava le azioni da seguire in caso di perdita di entrambi i motori. E questa checklist non solo diceva come provare a riavviare i motori, ma dava anche una guida su come poter controllare l'aereo senza motori e tenerlo in volo il più lungo possibile ed eventualmente portarlo a terra in sicurezza. Nel training per l'MD81 questa checklist era stata rimossa e non era stata sostituita. Così di sua iniziativa, finito il training, Holmberg era tornato a casa e si era messo letteralmente a tavolino con carta e penna e aveva stilato una sua personalissima checklist, dandosi delle indicazioni su cosa avrebbe potuto fare se mai si fosse presentata quella situazione. Torniamo a bordo del volo 751. Siamo nel 1991 e le porte dei cockpit non sono ancora blindate come oggi. Inoltre il comandante Erasmussen ha l'abitudine di lasciare sempre la porta della sua cabina aperta e così non appena si scatena l'emergenza Holmberg guarda proprio in direzione dei piloti e capisce subito la confusione e il caos che regnano nel cockpit e decide di andare in aiuto. Si slaccia le cinture e si precipita in cabina. Qui la situazione è davvero critica. Il comandante Erasmussen ha disabilitato il pilota automatico e ora sta cercando di tenere in volo l'aereo. Il primo ufficiale sta cercando di raccapezzarsi tra le varie checklist per tutti gli allarmi che sono scattati in cabina e nel frattempo contemporaneamente gestisce le comunicazioni con il controllo del traffico aereo. Quando Per entra sono estremamente felici di avere un altro comandante esperto in cabina e senza pensarci due volte il primo ufficiale gli passa il compito di verificare le checklist al suo posto in modo che lui possa dedicarsi alle comunicazioni col controllo del traffico aereo. Sono a quota 3000 piedi quando i motori si spengono. Poiché sono i motori a fornire energia elettrica all'intero aereo se questi si spengono la strumentazione non riceve più energia. Il comandante chiede quindi di attivare l'APU ovvero l'Auxiliary Power Unit. Si attiva questa unità di potenza ausiliaria che non è altro che un piccolo motore a turbina che è in grado di alimentare la strumentazione essenziale. Grazie a questo il primo ufficiale riesce a mettersi in contatto col controllo del traffico aereo e comunica l'emergenza. Hanno perso entrambi i motori. A questo punto il comandante Holmberg si concentra sugli allarmi in cabina e sulle checklist ma dice a Rasmussen una cosa molto importante guarda avanti guarda dritto davanti a te. Vuole che Rasmussen rimanga concentrato al 100% solo sui comandi dell'aereo mentre lui e il primo ufficiale si occupano del resto. Durante tutta l'emergenza Holmberg continua a ripetere e ripetere ancora guarda avanti guarda dritto davanti a te. Fa in modo appunto che il comandante Rasmussen rimanga completamente ed esclusivamente concentrato sui comandi dell'aereo per evitare lo stallo. A questo punto stanno volando nelle nuvole. Sono completamente avvolti dalle nubi che arrivano fino a mille piedi cioè circa appena 300 metri. Questo significa che l'equipaggio avrà una visuale del terreno sottostante solo quando scenderanno sotto quella soglia e questo gli darà pochissimo tempo per cercare un luogo dove poter effettuare un atterraggio d'emergenza. È chiaro a tutti che non raggiungeranno mai un aeroporto. Mentre in cabina i piloti fanno del loro meglio per tenere in volo il più a lungo possibile l'aereo dietro di loro in cabina passeggeri gli assistenti di volo preparano i passeggeri all'atterraggio d'emergenza. E se ciò che stanno facendo i piloti nel cockpit è esemplare per ordine sangue freddo e comunicazione tra di loro ciò che fanno gli assistenti di volo lo è altrettanto. Nonostante l'emergenza improvvisa e il poco tempo a disposizione riescono a istruire i passeggeri sia in inglese che in svedese spiegando loro la posizione da mantenere. Fanno tutto ciò che devono in maniera efficace chiara e tempestiva e le persone comprendono esattamente ciò che devono fare per avere una chance di salvarsi. Ma torniamo al cockpit. L'aereo è sceso sotto i millepiedi. Finalmente i piloti possono vedere cosa c'è sotto di loro e provare a cercare un luogo adatto all'atterraggio. Si trovano sopra le foreste svedesi. Sotto di loro vedono solo alberi alternati a brevi tratti sgombri. Campi però troppo corti per potersi fermare in sicurezza. L'altezza continua a diminuire e gli alberi e il terreno sono sempre più vicini. Il comandante Holmberg sta seguendo la sua checklist mentale, quella che si era creato di sua iniziativa per una situazione simile e inizia quindi a estendere i flap per rallentare l'aereo. Lui sa che per avere il massimo delle possibilità di sopravvivenza a un atterraggio di emergenza su un terreno accidentato questo deve avvenire alla minor velocità possibile. non potendola regolare poiché senza motori utilizza i flap. Il primo ufficiale chiede se deve far scendere il carrello di atterraggio. Il comandante Rasmussen non risponde lui è concentrato totalmente sui comandi dell'aereo. Al suo posto gli risponde invece il comandante Holmberg e gli dice sì il carrello deve essere abbassato. L'aereo ora è pressoché a terra sta sfiorando le punte degli alberi. Holmberg è ancora in piedi nel cockpit ma a questo punto non ha più il tempo di tornare al suo posto e allacciarsi le cinture quindi esce dalla cabina di pilotaggio e si butta semplicemente per terra senza alcun sistema di sicurezza a trattenerlo. L'aereo colpisce i primi alberi e il primo ufficiale in maniera estremamente lucida fa l'ultima comunicazione al controllo del traffico aereo dicendo che il volo stava in quel momento precipitando a terra. Le ali dell'aereo colpiscono gli alberi e vengono danneggiate seriamente poi arriva il campo aperto l'aereo sbatte con estrema violenza prima la coda poi scivola sul terreno gelato per circa 100 metri e infine la fusoliera si spezza in tre tronconi. L'impatto è stato incredibilmente violento ma poco alla volta dalle spaccature della fusoliera escono i primi passeggeri. Qualcuno è ferito. Il comandante per Holmberg ha perso i sensi si trova sdraiato tra i detriti all'interno della fusoliera. Anche i piloti sono feriti il primo ufficiale C. Edermark ha una mano rotta. Gli assistenti di volo aiutano i passeggeri a uscire e nonostante i danni alle ali che contengono molto carburante miracolosamente non scoppia alcun incendio. L'evacuazione si conclude quindi con successo e mentre attendono i soccorsi i passeggeri si rendono conto di ciò che è appena accaduto. Quello che poco dopo verrà ribattezzato come il miracolo di Gotrora. Nonostante il terrificante impatto tutti i 129 occupanti dell'aeromobile sono sopravvissuti. Partono subito le indagini guidate dallo Swedish Accident Investigation Authority. È di fondamentale importanza capire il prima possibile cosa sia accaduto a questo aereo. L'attenzione degli investigatori si concentra immediatamente sui motori. Grazie alle testimonianze di passeggeri e piloti riescono pian piano a mettere insieme i pezzi del puzzle. Ciò che tutti descrivono di aver sentito subito dopo il decollo sono forti colpi provenienti dai motori come colpi di cannone uno dietro l'altro. Questo fa intuire all'autorità un potenziale indiziato ovvero uno stallo del compressore. Senza entrare in dettagli troppo tecnici il compressore è un componente del motore che sostanzialmente serve a comprimere l'aria che arriva dall'esterno e spingerla verso l'interno del motore nella camera di combustione. Se il compressore subisce un qualche tipo di danno non riesce a spingere correttamente l'aria verso l'interno al contrario quindi la pressione aumenta 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 ancora e infine viene espulsa in avanti ed è proprio questo aumento di pressione che poi viene rilasciata di colpo in avanti a dare vita a quei colpi simili a cannonate che tutti i passeggeri avevano segnalato agli investigatori. La procedura corretta da seguire in caso di stallo del compressore è disconnettere l'autopilota e quindi diminuire la potenza del motore che è esattamente ciò che aveva fatto il comandante e che viene confermato dai registratori di volo. Quindi a questo punto le domande aumentano. Cosa aveva causato lo stallo dei compressori di entrambi i motori e perché si erano irrimediabilmente danneggiati nonostante la procedura corretta seguita dal comandante? Le indagini proseguono in cerca di risposte. I danni subiti dai componenti dei motori potrebbero fare chiarezza. Quindi vengono analizzati a fondo in laboratorio tutti i reperti raccolti dal luogo dell'incidente e così si scopre che i segni ritrovati sulle parti dei motori sono compatibili con i tipici segni lasciati dal ghiaccio. Ecco il colpevole, il ghiaccio che con tutta probabilità si trovava sulle ali dell'MD81 e che nel momento del decollo si è staccato ed è stato risucchiato dentro i motori. Ma quindi sorge una nuova domanda. Com'è possibile che ci fosse del ghiaccio sulle ali se l'aereo era stato sottoposto sghiacciamento appena prima del decollo? Ricordate l'aereo era arrivato la sera prima da Zurigo e conteneva ancora molto carburante nelle ali. Tutto quel carburante aveva raggiunto temperature estremamente basse durante il viaggio, abbiamo visto fino a meno 60 gradi centigradi. Una volta atterrato era rimasto sotto una leggera pioggia mista neve per tutta la notte. La temperatura estremamente bassa delle ali causata dal carburante molto freddo al suo interno aveva agevolato la formazione di uno spesso strato di ghiaccio, più spesso del normale. Nel momento in cui l'aereo era stato sottoposto a sghiacciamento era stata eliminata la parte superiore del ghiaccio, tuttavia non era però stato rimosso completamente. Gli addetti avevano effettuato un controllo visivo ma non avendo attrezzature adatte a poter andare a verificare da vicino la superficie delle ali non avevano notato che questa era ancora ricoperta da uno strato ghiacciato, strato che da un controllo visivo a distanza appunto non era assolutamente visibile. La prima domanda quindi trova una spiegazione su come si è formato il ghiaccio e perché nonostante lo sghiacciamento fosse ancora lì. Tuttavia le procedure messe in atto dai piloti avrebbero dovuto aiutare i motori a salvarsi dalla rottura definitiva. Perché non era stato così? Analizzando i dati del registratore di volo emerge che anche se il comandante aveva effettivamente diminuito la manetta dei motori questi per un motivo inspiegabile poco dopo avevano ricominciato ad aumentare di potenza. Qualcosa non tornava. Il comandante Erasmussen ripete la sua versione con convinzione e cioè che lui aveva diminuito la potenza. Dopodiché nel caos della situazione né lui né il primo ufficiale avevano più fatto caso alla manetta e quindi non avevano notato che la potenza era aumentata nuovamente senza che loro avessero toccato più i comandi. Gli investigatori a questo punto contattano il costruttore McDonnell Douglas e scoprono l'esistenza di un sistema a bordo dell'aereo chiamato ATR Automatic Trust Restoration. Negli Stati Uniti la FAA aveva regole piuttosto severe sull'abbattimento del rumore nelle zone vicine ai centri abitati. Questo comportava che i piloti durante il decollo dovessero diminuire la potenza dei motori per rientrare in questi parametri di rumore richiesti dalla FAA. In questa situazione così delicata se i motori avessero avuto un qualsiasi tipo di problema o la potenza fosse diminuita troppo si sarebbe messo a rischio l'aeromobile. Per questo motivo McDonnell Douglas aveva studiato un sistema di sicurezza appunto l'Automatic Trust Restoration. Questo avrebbe aumentato in automatico la potenza di entrambi i motori e tenuto quindi al sicuro da uno stallo l'aereo. Nei piloti del volo 751 nella stessa Scandinavian Airlines sapevano dell'esistenza di questo sistema montato sull'MD81 ed è proprio l'ATR che nel momento in cui rileva i parametri per cui era stato creato entra in funzione e aumenta la potenza dei motori. Non è possibile dire con certezza che sia stato questo aumento di potenza a mettere fuori uso i motori definitivamente. Probabilmente il ghiaccio risucchiato all'interno li aveva danneggiati a tal punto che si sarebbero spenti comunque. In ogni caso questo aumento di potenza non aveva fatto altro che aggravare la situazione. Tutte le domande hanno avuto quindi una risposta. Alla conclusione delle indagini le autorità stilano un rapporto dove vengono indicate numerose raccomandazioni che riguardano soprattutto la fase di sghiacciamento degli aerei. Dal canto suo la Scandinavian Airlines doterà i tecnici addetti allo sghiacciamento con delle scale adatte ad arrivare a visionare da vicino la superficie delle ali per essere sicuri al 100% che queste siano libere completamente dal ghiaccio anche quello più difficile da identificare. Nel rapporto delle autorità vengono inoltre fatte raccomandazioni sulle procedure riguardanti il training dei piloti che ovviamente devono essere messi a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza montati a bordo di un aereo. Sistemi di sicurezza che in caso di emergenza non devono in alcun modo contrastare con le azioni dei piloti. In conclusione a questa storia ciò che però mi preme di più in assoluto è mettere l'accento su ciò che è accaduto a bordo del vollo 751 durante quell'emergenza. Quello è stato un esempio di come deve essere gestita un'emergenza, un equipaggio che resta lucido e concentrato, che si divide i compiti, che comunica e fa lavoro di squadra, oltre che alle iniziative individuali come quella di Per Holmberg che grazie alla sua scrupolosità aveva dato un contributo essenziale. Inoltre anche le azioni degli assistenti di volo vanno menzionate perché data la situazione critica in cabina di pilotaggio non avevano ricevuto chiari ordini su come e quando procedere con le operazioni per mettere in sicurezza i passeggeri. Si sono dimostrati estremamente preparati, presenti di spirito, hanno organizzato la cabina passeggeri in autonomia dando indicazioni chiare e ripetendo in modo estremamente preciso ciò che i passeggeri avrebbero dovuto fare. Tutto l'equipaggio di quel volo è stato assolutamente professionale e pronto ed è stato questo insieme a un pizzico forse di fortuna che ha portato alla salvezza di tutti i 129 passeggeri. Bene amici la storia di oggi si conclude così, come sempre fatemi sapere se la conoscevate, cosa ne pensate. Oggi abbiamo visto una storia a lieto fine, ogni tanto ci vuole. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un nuovo video e un nuovo viaggio insieme.